Ciao e benvenuta in questo nuovo video oggi voglio fare un try with me perché da tantissimo che non lo faccio utilizzando la nuova palette di Huda Beauty con queste nuove colorazioni è stato un regalo di Natale e quindi io sono strafelice di averla ricevuta vi lascio allo spezzone in cui provo per la prima volta questi ombretti e ci vediamo dopo Grazie a tutti Quindi questo è il risultato finale io sono strafelice di aver ricevuto questa palette perché è stupenda come avete visto nel video contiene 7 tonalità di ombretti appunto sui colori sui colori abbastanza nude, marroni e soprattutto c'è questo nero e questo argento che io volevo assolutamente e nonostante appunto siano colori abbastanza nude abbastanza neutri comunque ci sono 5 tonalità che sono shimmer quindi che sono appunto che hanno queste per le scienze e sono stupendi come avete visto io ho utilizzato ho fatto un semplice make up nero e silver quindi nero e argento e la trovo fantastica fa un po' fall out quindi cade un po' di prodotto sull'occhiaia sulla guancia ritrovo un po' di prodotto però penso che magari semplicemente utilizzando un fagiolettino di carta quindi mettendo il fagiolettino di carta e poi fare appunto col pennello questo dovrebbe risolversi oppure truccare prima gli occhi e poi fare la base in modo tale che anche se ci sia fall out non venga rovinata la base nonostante ciò penso che sia una buona palette perché è di Huda Beauty e poi contiene 9 colorazioni che secondo me sono molto utilizzabili perché appunto abbiamo colori neutri quindi possiamo fare semplicemente un trucco nude semplicissimo oppure osare e quindi utilizzare i colori shimmer che ci sono quindi ad esempio io ho utilizzato appunto l'argento e quindi ho voluto usare un po' quindi è una paletta abbastanza ricca secondo me e secondo me per la misura che ha che comunque entra in un palmo di una mano può essere utilizzata benissimo quando si viaggia quindi quando non vogliamo portare 300.000 ombretti o palette in un'unica paletta abbiamo parecchie colorazioni che possiamo utilizzare per diversi make up e io mi sono innamorata di questa palette ci vediamo al prossimo video un bacione enorme ciao 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 ciao